La società attuale, come anche quella medievale del resto, è tripartita. Ci sono oligarchi, influencer, esterminata su burra da questi manipolata. La tripartizione sociale odierna, nonostante si pensi di vivere in un mondo ipermoderno, nell'epoca del progresso, tutte queste narrazioni qui, come quella del Medioevo. La società attuale, come quella del Medioevo.